Vittoria con questo format che è interessante dire si prolunga nel tempo perché si chiuderà in autunno, quasi all'inizio dell'inverno, è una persona che regala dei momenti alla sua città, la sua città che racconta attraverso il profumo del mare, che si sente un po' meno ultimamente, così mi ha detto, oppure degli uccelli la sera al mattino, le rondini passerotti, io quando racconto queste cose ai miei figli sono sempre lì al pelo dire ma sto scadendo nella retorica, attenzione, e invece no, perché al di là di saperne parlare in un certo modo senza scadere nella retorica, è molto importante raccontare l'emozione, avere il coraggio di raccontare le emozioni, la dedizione. Tutto quello che noi facciamo, anche voi qui questa sera, lo fate fondamentalmente per passione, sì, per tornaconto, per interesse, perché bisogna vivere, però credo che nessuno di noi sia qui in questo momento se dietro non ci fosse una passione, un modo di essere, una curiosità. C'era Achille Castiglioni che diceva che il designer deve essere prima di tutto una persona curiosa, perché bisogna capire la realtà e poi cambiarla. Con Vittorio ci siamo visti qualche mese fa e si pensava a questo format, oltre alle performance teatrali, alle Lectio Magistralis Ex Cattedra, in questo caso di De Lucchi e tanti altri bravissimi progettisti, si pensava di raccontare il progetto, quello che sta dietro le quinte, quello che fa uscire un marchio, ma adesso lo dirà bene anche Davide, spesso è una vista compendiaria. Noi abbiamo dei brand in testa, ma nessuno di noi, pochi di noi, sanno realmente cosa c'è dietro. Il problema della bella industria, oggi a pranzo si parlava di Olivetti, di Fiat, dei casi italiani, dell'industria. Rimadesio è uno di questi casi, lo spiegheremo bene questa sera. Bisogna spiegare le persone, il percorso, le prospettive, tutto quello che c'è dietro. E, come dico, ultimamente lavorando tanto con gli architetti, anche il punto di vista, il nostro giudizio su qualsiasi cosa, su una canzone, su un oggetto design, su un'architettura, cambia, vi assicuro, cambia nel momento in cui noi lo percepiamo, perché lo raccontiamo o lo sentiamo raccontare dai protagonisti, dai progettisti. Io ho studiato musica, dico sempre, se così non fosse, coloro che non hanno studiato musica e non intendono le note, non sanno leggere le note, non apprezzerebbero i brani musicali, così come l'arte, così come tante altre cose. Allora, il discorso della lettura, della comprensione, dello spiegare determinate situazioni è, per me, fondamentale. Arrivo a dire, pur essendo schermato da un punto di vista, diciamo, estetico come formazione, avendo studiato anche un po' di filosofia, che a volte io stesso cambio il giudizio su un'architettura o su una situazione, non essendo architetto, avendo studiato lettere, proprio dopo aver sentito l'architetto raccontare il progetto, se è contestualizzato, se è realizzato in quel modo perché cita qualcos'altro. Uno degli ultimi esempi, leggendo il critico Luigi Prestinenza Puglisi, per esempio rispetto alla stazione Termini di Roma, uno vede questa pensilina, questa onda in aggetto e dice, bello, un esercizio di stile, di nerviana memoria, anche se non è un progetto di nervi. In realtà l'architetto voleva raccontare le mura che stanno dietro la stazione, quindi una specie di silhouette. Si racconta questo progetto in questi termini perché, in questi termini, sembra una battuta, una letterazione, perché oggi la stazione è stata interessata da una trasformazione, e quel progetto lì che raccontava il contesto è stato in parte un po' tradito. Ecco, un'ultima parola, prima di dare la parola a Davide, è proprio questa, cioè la coerenza. Il progetto deve essere coerente. Quando viene cambiato o riletto, deve essere coerente anche nella propria rilettura. Bene, questa sera non sono io a parlare, ho parlato fin troppo, però mi interessava raccontare perché, secondo me, lo spiego anche ai miei figli e a mio padre, il progetto va raccontato. Altrimenti spesso non riusciamo veramente ad intenderlo. Questo significa anche per il design. Roberto Giacomoce, qui in prima fila, che è stato il nesso tra di noi, lo sa benissimo, lo ha raccontato in tanti libri, in tanti progetti. Se non c'è racconto, non c'è comprensione. E proprio per questo abbiamo chiesto a Davide Malberti di raccontare la sua realtà, che adesso spiegheremo nel dettaglio. Lui, a questo punto un po' di anni fa, ha preso in mano, dopo un periodo di interregno, diciamo così, le redini dell'azienda, è la portata verso una direzione precisa che uscirà bene questa sera. Però io ci siamo preparati qualche domanda, quindi per non divagare come faccio spesso, inizierei con la prima, quella secondo me più impattante, perché ogni tanto bisogna cambiare anche il punto di vista, astrarsi, mettersi da parte e dire ma se io dovessi raccontare cosa faccio, che lavoro faccio io, l'ho raccontato in UTED recentemente, scherzando un po', però bisogna mettersi con un altro punto di vista. Allora la prima domanda che mi è venuta da fare a Davide è se tu dovessi raccontare Arimadesio a un bimbo, che cosa diresti? Direi che Arimadesio è una sorta di paradiso, però sarebbe una parola un po' troppo forte, quasi una bestemmia, per cui proverò a raccontarlo in un'altra maniera. Certo io vivo l'azienda tutti i giorni, quotidianamente, da 35 anni, che è esattamente l'anno 1983, che oggi mi raccontava Vittoria. Anni eroici, avevamo appena vinto il Mondiale di Calcio in Spagna, io avevo 16 anni, ci avevamo la vita in mano. Eh sì, è vero, anni bellissimi insomma, sì io sono entrato in un'azienda, ero molto giovane, quasi un bambino, perfetto, e mi avevano raccontato, mio padre mi ha raccontato, mi raccontò, mi ricordo, più o meno questa cosa, raccontandomi e dicendomi che sarei entrato in un luogo di lavoro bello, una casa, un luogo dove si sta bene, dove si lavora in maniera genuina e dove si costruiscono prodotti belli, fatti da quella vera manifattura italiana, mi ricordo al tempo, nell'83, l'azienda era molto più piccola di quello che è oggi, ma quello che non è cambiato sono i fondamenti, i principi, i valori, i valori, sì i valori, e a distanza di tanti anni devo dire posso descrivere Rimadesio esattamente allo stesso modo, un bel posto, un bel luogo dove si lavora veramente molto bene, sì e quindi quello che alla fine nasce, quello che è il frutto del lavoro è bello, insomma. Un paradiso in terra, hai detto benissimo, la bella industria, si diceva una volta, sono stati scritti dei libri in merito, l'esempio importante e fondamentale è il caso Olivetti, si diceva oggi a pranzo che dagli urbanisti è visto come un mito, dai letterati è visto come un mito, anche per le edizioni di comunità, dalle stesse forze, lavoro, all'epoca, Ivrea era un punto di riferimento, allora questa bella industria è un modello che ci può essere, che ci sta, però quello che tu hai fatto e state facendo in questi anni oltre a delle pianificazioni, per esempio in rapporto alla sostenibilità, adesso ne parleremo, è una specificità, una specializzazione nelle tipologie, nei sistemi, come per dire eravamo bravi a fare tante cose, siamo i migliori, è bello dirlo ma è così, a fare determinate cose, come si fa a tenere alto questo percepito, come si fa a dire che Rimadesio diventa come all'epoca citando la storia del design, Frigidaire un marchio che diventa tipologia, piaciuta questa del Frigidaire, è venuta adesso, non so qual è il percepito di Rimadesio, io a volte sono così, un po' imbarazzato, perché forse non mi rendo conto, insomma, quello che viene percepito dall'esterno è diverso da quello che io percepisco tutti i giorni in azienda, quello che posso dire è che io ho avuto la fortuna di entrare in azienda in giovane età e quindi insomma ho avuto la possibilità di pianificare e quindi di ipotizzare un percorso lungo, a lungo termine, direi che insomma alla base del successo nazionale, internazionale di Rimadesio, alla base vera di tutto c'è un progetto imprenditoriale molto lungo. Senti, avete avuto in azienda tanti designer, tanti nomi, tra gli artisti basti citare Emilio Tadini, Lucio Del Pezzo, Ugo Nespolo, Grignani, tra gli altri, poi tanti designer, però si è passati da un percorso permettimi, tipico forse delle aziende della Brianza, citiamo i centri studio i famosi della BNB piuttosto della CMB poi Cassina dove c'erano all'interno delle fabbriche dei centri di sperimentazione di studio dove veramente passavano delle eccellenze. Si è passati da un panorama così molto vasto di artisti e di designer a una scelta posso dire monogama perché hai scelto di lavorare con una persona che abbiamo già citato prima. Sì, che questa sera non c'è che mi spiace perché sarebbe stata una presenza importante ma sì, vorrei però anche approfittare per dire che un po' questo periodo che ha visto transitare in azienda negli anni 80 verso la metà degli anni 80 gli artisti che prima dicevi mi ricordo Emilio Tadini quando veniva in azienda e colorava i vetri i nostri vetri perché noi da sempre lavoriamo questo materiale straordinario e si giocava sì insomma bella esperienza con lui con Lucio del Pezzo Ugo Nespolo mi ricordo a Torino ci vedevamo nel suo studio pazzesco esperienze che poi ti rimangono ti rimangono oggi in treno abbiamo fatto il viaggio assieme bellissimo quando si frequentano certe persone che sono persone carismatiche che sono persone che hanno cose da raccontare qualcosa rimane comunque accidenti sì 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 confermo confermo ti rimangono poi per sempre insomma stampati nella memoria e dopo quelle esperienze però e dopo aver lavorato per tanti anni diversi anni con dei bravissimi architetti mi ricordo Giovanni Offredi Giotto Stuppino Carlo Bartoli erano dei bravissimi designer che avevano costruito per noi e progettato per noi dei bellissimi prodotti d'arredamento una collezione quella di Rimadesio che era negli anni Ottanta apprezzata devo dire a livello nazionale soprattutto ma già guardavamo all'estero in tempi non sospetti devo dire che anche anche il mercato estero non è non è mai casuale insomma ecco però alla fine degli anni Ottanta decisi con mio padre e con mio fratello Luigi di cambiare rotta insomma di dare all'azienda una diversa impostazione insomma quindi pensavamo che era giunto il momento di insomma di fare qualcosa di più importante che non editare dei pezzi una collezione che era nella sua diversità vincente piacevole molto molto interessante così come fanno devo dire la stragrande maggioranza delle aziende di design insomma che coinvolgono anche per arricchire la propria collezione la propria il proprio catalogo il proprio la propria offerta anche tipologica decidono di lavorare con più menti con più cervelli è una soluzione che funziona e garantisco è perfetta e giusta noi però decidemmo di affidarci a una sola mano perché volevamo costruire una collezione molto più omogenea molto più coerente una sorta di sistema un lavoro che iniziò alla fine degli anni 80 e che vide i primi risultati a distanza di qualche anno perché non avremmo mai immaginato poi quello che sarebbe successo perché il personaggio che interpellammo e che incarichiamo di fare questo e che questa sera non c'è in effetti ci colpi con le sue idee rivoluzionarie insomma che però ha trovato modo di intervistare poche volte perché si concede raramente non è questo il caso nel senso che qui c'è un impedimento reale però Giuseppe Bavuso è persona schiva ed è incredibile quando noi troviamo un rivoluzionario schivo sembra quasi un ossimoro raccontaci questa cosa perché è un rivoluzionario schivo secondo te io mi ricordo vabbè ho poi alcune cose divertenti questo è in modo particolare mi ricordo che ci incontrammo per caso durante una cena a Colonia in Germania all'allora famosissimo salone del mobile di Colonia che si svolgeva tutti gli anni a gennaio proprio nell'inferno del nella fredda Colonia climatico più veramente peggior momento all'anno e devo dire fortunatamente anche il clima ha condannato la fiera di Colonia quindi i tedeschi a così porre lo scettro della così e la leadership dell'evento più importante a livello mondiale al Salone dei Mobile di Milano che è l'evento principe e devo dire che in questo i tedeschi hanno fatto che in quegli anni lì era a settembre però non era ancora da prima quindi c'è stato uno slittamento di calendario sì e devo dire che in quell'occasione tornando all'incontro conoscitivo con Bavuso ci incontrammo una sera a questa cena una cena un po' fantoziana permettetemi il termine come spesso succede quando si va all'estero e si va a mangiare italiano terribile una cosa incredibile però mi ricordo che ci piacemmo subito io poi lo stimavo e lo ammiravo perché aveva disegnato per due aziende che non ci sono più nel senso non ci sono più le aziende un'azienda che faceva imbottiti e dei sistemi molto interessanti Brunati e un'azienda invece Colzani che non è mai stato devo dire un vero e proprio marchio ma per questa azienda lui aveva disegnato dei prodotti belli tecnologici e essenziali e mi era piaciuta questa cosa e avevamo un consulente che ci suggeriva e ci portava in azienda dei talenti in quegli anni e io gli dissi mi piacerebbe conoscere Flavio che era questo editore fra parentesi mi disse maestrini esatto proprio lui conosci grande Flavio maestrini al tempo era un caro amico di papà era titolare al tempo lui era titolare di un'agenzia di pubblicità che lavorava per noi poi ho iniziato a fare l'editore e aveva dei contatti molto importanti e mi suggeriva quell'anno altri personaggi e gli dissi va bene va bene questi però fammi conoscere anche Giuseppe Bavuso bene dopo qualche giorno ci conoscemmo in 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 ufficio ad Esio dove allora aveva sede la nostra azienda e lo incaricammo da prima con un restyling di un prodotto tanto per assaggiarlo ecco si va prima di reinterpretazione del progetto e l'ha fatto in modo coerente sì devo dire con un atteggiamento un po' diffidente sì un test andò talmente bene questo test perché introdusse in azienda tre materiali per noi mai utilizzati e quindi inediti che decidemmo insomma di affrontare questo progetto avevamo in mente di per un'indagine di mercato che avevamo fatto in maniera abbastanza così empirica abbastanza una ricerca di mercato che ci aveva portato a individuare nella nelle partizioni scorrevoli nelle porte scorrevoli un tema molto interessante in quel momento correva l'anno 1988 e quindi lo incaricammo di ecco quello che non ci aspettavamo era di ricevere invece come risposta un progetto così ambizioso e complesso quale il progetto della porta scorrevole Siparium che ancora oggi è il prodotto più ecco a distanza di 30 anni questo è importante nelle aziende quando voi io scrivo di icone del design su una rivista e quello che conta è che avendo fatto una tesi su Enzo Mare che ha all'attivo ancora progetti a catalogo basti citare il sistema aggregato di Artemide che è del 74 è ancora a catalogo e funziona benissimo quando gli oggetti stanno a catalogo in produzione così tanto tempo vuol dire che sono giusti che nascono già giusti di per sé come è organizzata l'azienda perché poi si arriva al 90 e lì c'è una specie di spartiacque così mi hai detto tra le righe perché? al tempo si disegnava in un'altra maniera non c'era non c'era quello che c'è oggi per cui i progetti erano anche molto molto più lunghi molto più lunghi rimanevano sul tecnigrafo per mesi tecnigrafo tecnigrafo sì sì pazzesco non c'era ancora internet o meglio non era ancora utilizzato bellissimo e mi ricordo appunto che fu alla presentazione del primo progetto per i Madesio che ci troviamo di fronte a questo questo shock a questo prodotto bellissimo assolutamente assolutamente in controtendenza minimal in alluminio e vetro al che giustamente di sia abavuso noi il vetro lo conosciamo molto bene il vetro materiale storico di Rimadesio avevamo tutto quello che poteva servire per affrontare qualsiasi nuova sfida ma l'alluminio no e quindi gli dissi ma è l'alluminio però gli dissi beh per l'alluminio abbiamo abbiamo tanti buoni ottimi fornitori esterni in azienda nel nostro territorio il tessuto dei terzisti fondamentale quando dici il vetro lo conosciamo siccome ho visitato tante aziende in Brianza e non solo vuol dire che ci sono le linee di produzione che ci sono le persone che sanno come si lavora che hanno delle esclusive di brevetti perché poi non è solo conoscerlo è saperlo fare lavorare metterlo in prodotto e si perché la sfida poi fu esattamente quella io dissi va bene affidiamo eh no mi disse no mi disse no l'alluminio dobbiamo produrlo noi perché eravamo una squadra quindi come noi si troppo facile affidare la costruzione di questo prodotto completamente in alluminio e vetro all'esterno dobbiamo proteggerci dobbiamo fare qualcosa per far sì che si crei fra noi e i nostri competitor una distanza un gap esattamente e così fu accidenti solo che ci mettiamo tre anni soltanto a a produrre il primo pezzo la prima porta insomma beh allora la super leggera di Ponti se non ricordo male ha impiegato sette anni a entrare sono tempi diversi però è ancora in produzione la super leggera questo per dire che i tempi c'era comunque il salone c'era la fiera campionaria c'erano già delle scadenze però c'era la consapevolezza che un prodotto significava mettere in pieno una linea di produzione assumere o meno delle persone c'era forse più coscienza più etica da quel punto di vista eh sì assolutamente sì sì beh poi devo dire che alla fine degli anni 80 il mercato era particolarmente agile sì agile insomma certo eravamo decisamente più responsabili di oggi ma il mercato era un'altra cosa quindi ci stava insomma c'era si poteva sperimentare sperimentare ma tante cose che facciamo ancora oggi insomma devo dire che non è cambiato lo spirito è sempre lo stesso e a proposito di sperimentazione una delle chiavi di lettura o comunque di grimaldelli della sperimentazione è la tecnologia no e allora cito sempre questo esempio di Gio Colombo il vate il profeta del design italiano che peraltro non era un designer aveva tutt'altra formazione che andava a visitare le fiere tecniche andava nelle fiere della plastica del ferro infatti ha utilizzato materiali nuovi i giunti gli snodi per arrivare poi al concetto di habitat per arrivare a raccontare con l'h davanti habitat l'ambiente e quindi un luogo progettato autosufficiente con molte funzioni però la domanda che volevo farti è questa come si fa ad aggiornarsi come fate voi ad aggiornarvi tecnologicamente Sì è un tema fondamentale sostanzialmente ci dividiamo i compiti anche se alcuni li svolgiamo assieme per esempio le fiere sono in assoluto un momento molto importante ma non le fiere del settore altre fiere quindi cerchiamo di frequentare le fiere della meccanica di cercare fornitori in altri settori assolutamente e quindi attraverso visite attraverso qualsiasi opportunità e qualsiasi occasione di conoscenza cerchiamo di entrare in contatto con chi utilizza delle tecnologie che per esempio nel nostro settore non ci sono molto importante dicevi l'auto e la moda per esempio come mondi di riferimento l'auto è un grandissimo riferimento nel settore dell'auto è avanti cento anni rispetto al settore dell'arredamento anche se in alcuni nostri prodotti ci sono dei componenti che utilizzano tecnologie di ultima generazione come nelle pressofusioni per esempio di alcuni nostri prodotti usiamo esattamente gli stessi macchinari e a volte anche gli stessi fornitori gli architetti parlano di diritto alla materia ma hai detto prima di questa vostra svolta evidente con verso il vetro e l'alluminio sono due materiali da un certo punto di vista ecologici l'alluminio a produrlo forse un po' meno però è riciclabile lo si riutilizza voi lo riutilizzate in parte parliamo anche di questo passaggio di questi due materiali che sono il vostro vocabolario dell'elezione e che hanno come presupposti questo vertere alla sostenibilità parlare di alluminio e vetro cioè di materiali certo di alluminio e vetro potremmo parlare per dal 90 oggi per un po' di tempo due materiali straordinari che sono fortunatamente devo dire due materiali anche riciclabili al 100% e quindi insomma due materiali che in questo momento trovano nel nel nostro progetto di sostenibilità ambientale affrontato diversi anni fa in tempi non sospetti e due pilastri fondanti sono poi due materiali eccezionali insomma quindi l'utilizzo anche di questi materiali nel modo più corretto è un altro tema è un'altra sfida che da anni cerchiamo di portare avanti cioè non possiamo utilizzare il vetro per fare dei prodotti morbidi per esempio non ancora ma ne facciamo ne facciamo sia del vetro che dell'alluminio un uso corretto di due materiali eccezionali perché sono due materiali che rispetto ad altri materiali utilizzati nel nostro settore danno performance di durata nel tempo di affidabilità di qualità di stabilità solo per citare alcune qualità di questi materiali e poi c'è un un aspetto che è quello dell'utilizzo di materiali riciclati perché in parte il materiale che noi utilizziamo l'alluminio che noi utilizziamo è al 60% riciclato cioè proviene da un impianto straordinario che è in Italia e tutto il nostro materiale arriva da lì noi abbiamo diversi fornitori per l'alluminio ma tutto l'alluminio viene acquistato in questo unico sito italiano quindi alluminio 100% made in Italy riciclato il 60% e fortunatamente anche nella nostra filiera produttiva questo materiale diventa uno scarto di qualità una domanda sul prodotto allora si è passato si è passati siete passati diciamo così dal prodotto al sistema osservandovi studiandovi un po' conoscendovi da anni c'è l'impressione che Bavusa abbia lavorato sulla l'assottigliamento la riduzione il bimateriale si va quasi in una direzione si potrebbe pensare immaginare di mancanza di dettaglio mancanza di poesia poi si vedono i vostri prodotti e li vedremo dopo nell'atelier di Vittoria Ribighini e uno inizia a meno io che sono un feticista nato a osservare il dettaglio lo scuretto sotto squadra la proporzione la sezione aurea la proporzione del vetro rispetto all'alluminio allora uno non può non pensare ai quadri non dico Piero da Francesca perché sembra un azzardo però sicuramente anche nel disegno in questa scelta coerente del less is more perché è uno dei tuoi detti principali c'è comunque della poesia com'è possibile? eh questo è difficile non saprei rispondere nemmeno io infatti butto la palla a Davide certo che sì la nostra collezione ha questa coerenza estetica questo aspetto questo aspetto asciutto i nostri prodotti sono un po' asciutti sono molto rigorosi ma perché l'idea è che a meno l'idea poi i prodotti non li progetto io quindi non vorrei però il progetto ha un padre e una madre quindi scegli tu se vuoi essere padre o madre ma io chiedo Bavuso sempre di disegnare con la mano destra per Rimadesio e con la mano sinistra per gli altri perché lui è destro non è mancino e devo dire che questo nostro accordo lo sta lo sta rispettando perché c'è un impegno che ci lega anche quasi in maniera viscerale quindi c'è un'intesa anche sui prodotti che dobbiamo anno per anno mettere in costruzione che ci permette di lavorare veramente molto bene con grande disinvoltura e io condivido ecco nel progetto condivido che per esempio la tecnologia e quindi i materiali debbano comunque donarsi al prodotto all'estetica del prodotto e quindi quando parliamo di tecnologia dobbiamo utilizzarla in maniera corretta quindi nasconderla assolutamente sempre mentre la cura del dettaglio è fondamentale ed è frutto di di tante altre cose che sono sì il segno ma poi anche insomma ciò che si richiede in termini prestazionali alla tecnologia industriale che insomma grazie anche a una meccanica sempre più evoluta permette insomma di fare ciò che l'anno prima e l'anno prima ancora e nel passato non si sarebbe potuto fare quindi questa necessità anche di rendere i prodotti più asciutti più 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 tecnologici serve anche per insomma per per offrire un'evoluzione alla nostra collezione e creare una produzione e una collezione in continua evoluzione per me la poesia sta nella conduzione delle linee nelle proporzioni nella se poi vedremo la libreria floor to floor il tavolo alcuni dettagli delle gambe delle rastremazioni i raccordi non è solo non sono solo sistemi porte scorrevoli e via dicendo è un vero e proprio mondo di riferimento a proposito di mondo vorrei farti proprio una domanda sull'estero quanti punti vendita avete quanti paesi cavalcate stiamo attraversando alcuni anni gli ultimi in modo particolare in in forte crescita sta crescendo tutto però devo dire per quanto ci riguarda è proprio una questione di maturazione dell'azienda insomma siamo non esplosi perché sarebbe un disastro ma cresciuti abbastanza velocemente insomma il mercato estero è raddoppiato negli ultimi negli ultimi ti mandiamo un curriculum Davide 5 anni adesso partiranno i curriculum dei ragazzi però insomma guardiamo il mercato estero con con grande fortunatamente che con grande tranquillità e quindi riusciamo anche a fare dei ragionamenti sul prodotto e sulla nostra collezione con la dovuta calma e la dovuta intelligenza cioè non ci facciamo prendere dalla mano assolutamente cioè siamo fedeli al progetto dell'azienda e quindi anche se c'è questa crescita sull'estero che devo dire ci sta coinvolgendo cerchiamo anche lì di parlavi prima dei negozi che stiamo aprendo ecco sono il frutto di una di un'idea che con grande fatica stiamo portando avanti da tanti anni il primo negozio monomarca risale al 2001 forse 2000 2001 a Parigi quel negozio non c'è più perché non c'è più il nostro partner a Parigi un po' mi manca a Parigi ma accidenti possiamo mica ma è un progetto che appunto è nato 17-18 anni fa perché era necessario avere anche all'estero non dei rivenditori ma dei discepoli comunque dei punti di eccellenza sul territorio estero così come lo abbiamo in Italia voglio dire dove abbiamo non dei rivenditori noi abbiamo dei partner dei collaboratori ambasciatori sì 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 assolutamente senti a proposito di estero una bella chiaccarata stamattina in treno visto che parliamo dietro le quinte anche una cosa cui forse non si pensa spesso cioè la difesa del brand non è solo un discorso di made in Italy ovviamente però spesso quando è successo ti copiano ma non ti copiano solo il prodotto qui si parla di brevetti di brevetti tipologici di piani di applicazione per cui bisogna davvero ogni tanto spesso salvaguardare il marchio il brand questa è un'attività legale ma anche progettuale da un certo punto di vista è complicatissimo è complicato se io io sono solo il regista in azienda e so però che la difesa dei marchi per chi in azienda non si occupa di questo tema principalmente riguarda la difesa del marchio proprio aziendale più che del brevetto di invenzione o del brevetto ornamentale quindi di quelli che sono i modelli ornamentali che certo in alcuni mercati cerchiamo di difendere depositando e quindi sostenendo delle spese insomma di proteggere proprio il facciamo un esempio mi dicevi in treno che in uno stato dell'oriente uno potrebbe utilizzare rimadesio e fare delle profumazioni d'ambiente per esempio quindi è talmente famoso il brand che qualcuno potrebbe cavalcarlo per fare altro sì in alcuni mercati o meglio in tutto il mondo c'è la possibilità di registrare qualsiasi marchio quindi anche il marchio rimadesio per esempio se dovesse essere interessante io non lo capisco come possa ma la realtà è questa in Cina per esempio hanno tre società hanno depositato il marchio rimadesio sia nei caratteri occidentali che in quelli cinesi perde le tipologie di prodotto che non sono le tipologie da noi difese io non pensavo che questa cosa fosse così fosse possibile invece ti si apre per cui se noi domani dovessimo decidere di produrre vestiti abiti o profumi o ti raccontavo appunto le piastrelle ecco sono potremmo essere così bloccati bloccati in Cina ma così come anche in altri paesi dove c'è chi volontariamente insomma si appropria del marchio di un'azienda immagini brand quelli veramente top cosa debbano fare noi abbiamo un ufficio che si occupa esclusivamente di queste cose diciamo anche solo Ferrari per fare un esempio per fare un esempio non posso immaginare quanto poi dal marchio in qualche modo si esce oppure si si allarga i progetti culturali dell'amico Marco Romanelli lo scorso anno di Michele Lupi direttore di Icon e giornalista dove si parla anche di altro nel campo dell'azienda un po' come stiamo facendo noi con Vittoria usando l'atelier come punto di partenza per irrorare possiamo dire la città con sangue arterioso per fare una bella metafora e continuarla in maniera spero corretta però questi questi momenti di approfondimento dove filosofi artisti vengono a parlare del progetto del design potrebbe sembrare sovrastrutturale ma a volte fuori tema in realtà come si faceva negli anni 60 e 70 e dopo anche il fatto di creare del dibattito attorno a una eccellenza produttiva sempre paga in questo caso paga Davide però però paga non in questo qui intendo in questo caso delle attività culturali però citando una canzone perché lo fai? ma per il piacere innanzitutto di così di arricchire di accrescere le conoscenze e quindi di non limitarsi insomma al nostro operare quotidiano la vita all'interno dell'industria devo dire è particolarmente divertente io poi ho anche occasioni di conoscere di viaggiare molto per cui non mi annoio di certo però accidenti è bello anche poter divagare divagarsi sì e riuscire anche a creare delle dei momenti come questo io ho accettato in effetti questo questo invito bellissimo che ha fatto Vittoria perché è bello poter raccontare anche ciò che in alcuni casi per alcuni per alcuni imprenditori per esempio come me non non emerge insomma da quello che è la nostra comunicazione per cui poter raccontare anche ciò che c'è dietro ciò che c'è dentro è un progetto ritengo sia interessante e così con questo spirito noi in Rimadesio ogni anno promuoviamo anche noi nel nostro atelier nel nostro negozio di Milano che è un luogo straordinario voglio dire dove mi inviterai poi un giorno a visitarlo creiamo degli eventi che non hanno nulla a che fare con il nostro al conservatorio vicinissimo si si a un metro dal conservatorio e a scienze politiche quindi interdisciplinarità il progetto come dice Mari e tanti altri è allegoria è anche parlare di altro e altro che parla di progetto è sempre corretto forse anche questa può essere una risposta a quello che dicevamo perché fare degli eventi culturali vorrei avviarci verso la fine di questa chiacchierata di questa tua esposizione facendo una domanda molto seria però da sempre dall'inizio si può dire avete fatto dei piani decennali diciamo o comunque a lungo termine per quanto riguarda l'ambiente la sostenibilità l'energia li state rispettando è come se avessero io scherzavo prima e dicevo avete fatto un chioto interno visto che sei stato in Giappone recentemente però portare avanti in modo così importante coerente dei piani di rispetto dell'ambiente ma anche proprio progettualmente parlando dei veri e propri casi studio non a caso dicevi prima che siete l'unico stabilimento in Europa ad avere degli accumuli da fonti rinnovabili perché poi le scoprono dopo fanno casualmente si scoprono a seguire casualmente si scoprono delle cose dopo che le hai fatte è il caso del nostro superimpianto per la produzione di corrente elettrica da fonti solari si 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 è un progetto iniziato nel 2008 con la prima installazione di alcuni di alcuni centinaia di pannelli sui tetti della nostra fabbrica per produrre energia elettrica considerando insomma il costo dell'energia elettrica in Italia e considerando che la nostra produzione è particolarmente energivora purtroppo che per produrre il vetro per lavorare il vetro e per lavorare l'alluminio temperature alte no? si 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 quello si per cuocere per cuocere il vetro si per lavorarlo altrettanto insomma macchinari molto molto energivori per cui l'idea nacque nel 2008 nel 2010 nel 2014 abbiamo investito in in altri impianti sempre sopra il tetto della nostra azienda che pian pianino si ingrandiva insomma diventava più grande no? e oggi abbiamo 5250 pannelli fotovoltaici sul tetto della nostra azienda e quindi produciamo tanta corrente che addirittura in conto energia data all'utente alla rete cerchiamo di autoconsumarla e siamo arrivati al punto che abbiamo comprato anche delle auto elettriche ah giusto ho venduto la mia macchina a gasolio non ho più una macchina infatti mia moglie è disperata devo dire perché viaggiamo con una macchina elettrica che non è non è così bella esteticamente come una e anche tutte le luci dell'azienda sostituite con con led stiamo parlando stiamo parlando di quanti metri quadri di 220 persone che ci lavorano abbiamo 26 mila metri quadrati di fabbriche sì sì devo dire non abbiamo costruito neanche la fabbrica l'abbiamo comprata già fatta giusto per non anche questa è sostenibilità se ci va se noi scherziamo ma da noi in Brianza in questo momento a Giussano in alcuni comuni limitrofi hanno bloccato le costruzioni industriali e i piani urbanistici prevedono di recuperare i volumi esistenti noi abbiamo avuto la fortuna invece di subentrare un'azienda che era in difficoltà e quindi di ridare di ridare futuro a degli immobili bellissimi devo dire fra parentesi anche ben progettati negli anni vecchi stabilimenti degli anni 70 inizio anni 70 ci stava un'azienda infatti che era la T70 e abbiamo avuto la fortuna anche di acquisire un pezzo alla volta quindi finanziando anche in maniera in maniera adeguata siamo indebitati ma insomma in maniera cosciente e è la seconda volta oggi che parla di debito e mi dice io non sono un imprenditore di me stesso ma lui dice giustamente per fare imprenditore devi andare in debito però devi saperlo fare devi essere coerente e rispettarlo quindi sono tante dinamiche che lo sappiamo lo sanno coloro che si espongono rispetto a determinate cose nel senso che preacquistano nella speranza di vendere o comunque però sono dinamiche che forse non sempre abbiamo presenti quando un sistema funziona banca politica cioè tutto a posto quando non funziona benissimo bisogna come dicevi oggi in treno essere molto coraggiosi eh sì sì sparo l'ultimo domandone no devo dire si è coraggiosi e coraggiosi fortunati insomma la fortuna bisogna poi anche andare a prenderla stimolare raccontavo a Vittoria questo pomeriggio insomma del fatto insomma che avere un'industria oggi è insomma è abbastanza impegnativo però non si può mollare l'acceleratore bisogna continuamente spingere sull'acceleratore toccare il freno il meno possibile perché accidenti solo andando al massimo si riesce ad andare avanti devo dire da noi abbiamo tanti vantaggi ma dobbiamo cercare anche questi vantaggi di tutelarli di insomma di fare di non regalare per esempio all'estero le nostre tecnologie le nostre qualità poi tecnologie e qualità si possono anche qualcuno le regalate poi la sapienza e la cultura che c'è in Italia accidenti in altri mercati purtroppo non c'è noi abbiamo io a volte rimango stupito quando all'estero raccolgo così tanti consensi non mi rendo neanche conto e dico ma che cosa c'è un percepito del prodotto made in Italy all'estero che non ha uguali nei confronti di produzioni di altre nazioni e devo dire che questo è un aspetto che ci invidiano direi però giustamente e dovremmo essere consci anche rispetto al territorio e alle nostre peculiarità faccio l'ultima domanda visto che si parlava di futuro di piani decennali dove ti vedi tra dieci anni dove vedi Rimadesio tra dieci anni innanzitutto spero toccando ferro questo è Giza quindi va benissimo va benissimo sì certo metallo spero ma per dieci anni ancora in azienda poi spero di di lasciare alla terza generazione il timone dell'azienda però qualche anno ancora mi piacerebbe lavorare con gli stimoli che servono per continuare a fare bene il proprio lavoro e quindi circondandomi di cose interessanti ma in modo particolare poi di persone valide e che come me portano avanti da tanto tempo alcuni valori che sono quelli che veramente ti permettono di crescere non abbiamo citato il tema della serata che poi era trasparenza l'ha citato prima Vittoria Le Bighini in ingresso di serata volevo dire che più che dove ti vedi come ti vedi e ti citavo correre 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 correndo 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 senza senza frenare bene io farei un applauso a Davide per averci raccontato grazie grazie a voi Vittoria ci raggiunge io volevo ringraziare Davide Malberti perché la cosa fondamentale che io volevo in questi incontri era proprio questo cioè dare un volto all'industria raccontare storie di industrie storie di imprenditori io le aziende che qui rappresenterò le stimo molto perché oltre a a produrre in Italia e quindi a creare lavoro in Italia danno enormemente valore a tutto ciò che precede un prodotto finito cioè il progetto il prototipo e qui parliamo di altissimo artigianato altissimo artigianato che però utilizza i mezzi ormai quasi dell'industria per produrre questi prototipi e poi l'industria lo mette in produzione e qui subentra quello che ha detto Davide fino adesso all'estero noi siamo percepiti con dei valori altissimi io vorrei vorrei veramente che questi valori altissimi venissero percepiti anche da noi che invece ci sottovalutiamo e espresso prendiamo altrove prendiamo quelle che io chiamo le cineserie invece vorrei che veramente questi prodotti venissero apprezzati perché hanno dei valori enormi oltre alla bellezza che io da sempre propongo c'è un valore umano dietro a cui tengo tantissimo grazie Davide grazie grazie le persone sono uscite in questo racconto non solo le persone che lavorano nella sua realtà aziendale ma anche quando parlavi di mercati quando parlavi di persone l'uomo a Parigi quando parlavi di luoghi situazioni che ogni giorno andate a sondare a portare sono fatti di rapporti di relazioni anche tutto questo non ci sarebbe se non ci fosse una reciproca stima ma soprattutto il coltivare delle relazioni come in tutti i lavori andiamo dalla Eno Ciocco Gelateria grazie 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 a tutti